Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo Fanni, sono un Red Hat Certified Instructor di Extraordi. Oggi vi illustrerò il programma del corso RH254 SysAdmin 3, che diventa RH255 se comprata assieme al bundle per gli esami. Il corso dura 4 giorni e seguiremo i normali orari di ufficio, per cui 9.17 con un'ora di pausa pranzo. Il primo giorno iniziamo con uno sguardo a SystemD, Service & Diamond, la gestione dei servizi e dei run level, che è cambiata una grossa novità su RH7. La giornata prosegue con uno sguardo al networking, studieremo l'IPv6 e poi passeremo a configurare direttamente le interfacce, IPv4, IPv6, configurazioni in Team e in Bridge. Finisce la giornata lo studio di FirewallD, una nuova tecnologia uscita assieme a RH7 che ci aiuta a gestire le regole di IPTables. Il secondo giorno studieremo il servizio DNS, Domain Name Server, e configureremo un DNS di inoltre. Prosegue la giornata lo studio di POSFIX per il servizio email, l'MTA SMTP installato di default su RH7. Infine studieremo l'esportazione degli storage a blocchi via Ethernet tramite il protocollo TCPIP. L'esportazione del protocollo SCASI via rete diventa quindi iSCASI. Configureremo un target e un initiator. Vedremo poi l'esportazione NFS, Network File System, e l'esportazione Samba tramite il protocollo CHIFS, utile per l'interfacciamento con i sistemi Microsoft. Studieremo il funzionamento di un database relazionale come MariaDB. Impareremo anche un po' di linguaggio SQL, query di SELECT, INSERT, UPDATE e DELATE. Impareremo a fare un dump dell'intero server database e un eventuale ripristino. Termina la terza giornata con lo studio di HTTPD, Apache, uno dei più diffusi server web. Impareremo a configurare Virtual Host IP-based e Name-based. Inoltre studieremo il protocollo SSL, l'HTTPS, che offre garanzia nelle transazioni internet. L'ultima giornata inizia con uno studio della Bash, del nostro ambiente Linux, la possibilità di personalizzare la nostra shell. Scrivere funzioni personalizzate, script, cicli for, cicli while, le variabili. Termina la giornata del giovedì la Comprensive Review, una grossa esercitazione che vi permetterà di prepararvi al meglio agli esami del giorno dopo. Avremo quindi al venerdì i due esami EX200 alla mattina, che permetterà di ottenere la certificazione RHCSA, l'esame di 2 ore e mezzo. Al pomeriggio un esame di 3 ore e mezzo per diventare RHCE, Red Hat Certified Engineer. Detto questo, vi aspetto a tutti al prossimo RH255, a Milano o a Roma. A presto!